Questo video riguarda i migliori tre caldaia a pellet. Il vincitore della qualità è l'Elder Biomasa Studa di pellet. Risparmiate sul riscaldamento quest'inverno. La stufa a pellet è il modo più economico per riscaldare la tua casa. Le stufe a pellet riscaldano via aria nel punto in cui sono posizionate e quando riscaldate il serbatoio dell'acqua può essere portato con riscaldamento a riscaldamento a pavimento. La scelta migliore è per mantenere un sistema di riscaldamento ad acqua calda al miglior prezzo. Con questa stufa a pellet potrete riscaldare un'area di 420 metri cubi. Con una manutenzione minima, questa stufa riscalderà la vostra casa a un prezzo molto inferiore di altri sistemi di calore. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il palazzetti stufa a pellet. Il modello Ecofire Giulia Hydro è una stufa a pellet realizzata in acciaio verniciato con fianchi in essenza di legno venghè. Il focolare e lo scambiatore di nuova concezione consentono di ottenere altissimi rendimenti, cedendo la quasi totalità del energia all'acqua. La Ecofire Giulia Hydro è l'ideale per le abitazioni di medie, grandi dimensioni, per la potenza sprigionata e il basso consumo di pellet. Il vincitore del premio è il TBT Pritch Stufa a pellet. Un modello di stufa a pellet ad aria fornito di doppia accensione e di un vetro che costituisce un elemento di sicurezza importante in presenza di bambini. Un grado di efficienza molto superiore alle normali stufe in commercio è dato dall'innovativo scambiatore che consente inoltre un notevole risparmio di pellets. In questo modello, ispirato al precedente modello Siberia, abbiamo realizzato un nuovo design disponibile in bianco e rosso.